e siamo morti male e dopo esserci morti direi che è il caso di andare avanti di fucilazzo ok direi siamo già andati ritorniamo qui a prenderci i nostri ecchi del sangue se non ci li ha rubati lo zio alla fine vai giù come tutti gli altri ok di qua chiaramente ci sono mille vie non so da che parte andare ok qui si va semplicemente giù non mi pare di vedere alcuna via penso direi di proseguire da quel di qua mamma è un cavallo ovirio ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andate giù tutti quanti. Via, giù, e ok. Piale del sangue, siamo proprio ben accettati anche queste. Poi ietti, ok, se abbiamo capito i secondi. Piale del sangue. Piale del sangue. Vediamo. Bene, ok, c'è. Ok. Con calma e riflessione massima. Vediamo. C'è da che parte andiamo. Andiamo verso l'oscurità proponda le tenebre e le tenebre eterne o verso la via macchiata di sangue? Presto le tenebre. Oh, salve lei. No, 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 venghi, 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 venghi. Via, via, via. Via uccellaci. Troppatori di truciole. Ah, me lo avrò. Ah, ok, qui è chiuso, no. Oh, ok. Ok, andiamo solo per prenderci un paio di frammenti del sangue. Potenziare le armi? Adi. Sì, sarei un po' più giusto, certo. Ok, perciò la via di sangue dobbiamo andare. Proviamo a salire di qua. C'è una terza via. Via. Un, ah, sì, ok. Ok, allora andiamo a prenderci un oggettino qua. Visto oggettino. Ah, sì, giusto. Che serve per... Non ho ancora capito, non l'ho mai usato, ne ho effettivamente qualcuno che... dona una forza bestiale, però effettivamente no... non ho idea di... né di come, né di perché si debba usare. Cioè, credo andiamo tipo in modalità berserk quando la usiamo, però... però ma... attento troppo, non so bene. Ah, c'era questa, eh. Così mi... Ah, c'era proprio avanti. Ah, ma... quanto largo è questa via? Finisce più? Ah, lì sembra esserci un... un abitante. Eh, c'è più chiaro. Oh, sei un cacciatore di belve, vero? Yeah. Gloria a te. Tu non conosci il valore delle tue gesta. Ma... più grande è la pietà. La notte è a molte ore e le belve sono più numerose di quanto io possa contarne. Questa è una caccia senza fine. Neppure la morte offre sollievo e il sangue... ti imbeve. Ah, un destino davvero orrendo, ahimè. Ma sono disposto a farti un favore. Portati leggermente sulla destra della grande cattedrale e cerca una chiesa antica, celata. Se ci donano. Il dono del Dio ti darà la forza. Sì. Ne sono indiscutibilmente certo. Sì, sì, ok. Che... Dove dice lui era uno dei posti che avevo andato... erano andato a esplorare offscreen. Sede della grande cattedrale è esattamente dove abbiamo appena abbattuto il bosco e di parte se vi ricordate avevo provato ad esplorare. Avevo provato ad esplorare quella zona lì. Cioè, vi avevo detto che avevo provato ad esplorare e c'era la sala apparentemente di un altro boss. perciò non... ma quanti posti ci sono qui? Io mi sto perdendo. Non so dove sto andando io. no, 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 Nooo, ci sono morto, porca di quell'amica! Adesso cosa faccio è il trovare questo posto! Oh mio Dio! Ok, anime recuperate! Proviamo un segno di qua! Oh! Ok, poi ci diamo un tiro! D'accordo! Eh, di qua credo che sostanzialmente cadiamo e basta, perché comunque ci si potevano andare anche senza grossi problemi. Provo a leggere il messaggio. Attento uccello! Oh mio Dio! Di quale utilità incredibile sono questi messaggi? Uff, cominciano ad essere leggermente pericolosi questi, eh, cavolo di cani. Vabbè! Eh, proietti, non possiamo chiudere niente! Elisir blu! Adesso sono curiosissimo e sapere cosa fa l'elisir blu! E c'è una liquida di dubbio, origine usate strana... Ok, non abbiamo capito bene il... Il senso, però... Non ho la leva, non ho idea di cosa possa servire... Secondo me chiude semplicemente questo fortuna, perciò... C'è una disposizione, ma con dei casi sola, di drone... Deveva fare... Uff... Tu serve uno in autoreso che faccio... I am genius! Ah, bastano fare il giro... Il rifugio della belva Oh cacchio Eh questo, questi qua sono Ah let's go Uh che culi Ok Ciaia di sangue Noi siamo venuti Da Da lì, ok Qui è dove avevamo fatto il giro della casa Mio dio Realmente mi sto perdendo in una maniera Che non potete immaginare Direi di andare per il punto Ma porca vacca Ma da dove salta fuori questo Sparisci dalla mia vista Vedi Ah speravo mi hai ciasso giù una moto Quanto pare Era a chiedere troppo Era a chiedere troppo Noi ma porca vacca no 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 merda merda ok siamo finiti siamo morti ok no devo tornare a una cavola di interna no ma quanto in giù cadiamo ma quanto in giù cadiamo ok mio dio che che cavolo ok calma 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 ce la possiamo fare ok eh vabbè però ok 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 siamo pieni incredibilmente siamo pieni di fiare del sangue ok beh dentro qui c'è dell'arredo perciò eh ok ce l'hanno già detto dicevo assolutamente nulla vedo assolutamente nulla vedo ma dove sto andando ok ok abbiamo esplorato le case ok che non mi ricordo se ok ok di qua dove siamo venuti ok di quello cieco non c'è non c'è non si apre da questo lato eh che cacchio però ok 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 non c'è la stack che proseguire per di qua ok 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 io effettivamente tornerei all'antenna perchè abbiamo veramente troppi ecchi di sangue per sprecarli in questa maniera però una scorciatoia ci starebbe bene qui è un po' è un po' un po' complesso ok 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 poi un po' è un po' un po' è un po' qui non c'è un punto una volta qui? e noi eravamo scivolati ah ok dovrebbe essere proprio previsto che scivoliamo qui a sto punto quindi non lo pensavo io 11 io addirittura bello ecco allora ragazzi direi che anche per oggi si può finire qui visto che il video sta andando paracchio per le lunghe perciò come al solito iscrivetevi se non l'avete ancora fatto se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e commentate come sempre ci vediamo alla prossima volta grazie